Si chiama Tinsegno, il progetto del consultorio AYAD realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e la Fondazione Carispa, un progetto per la valorizzazione delle insegnanti e degli insegnanti contro il bullismo e cyberbullismo tra teenager. Il fenomeno purtroppo è abbastanza ampio sia sull'Aquila che sul territorio regionale, purtroppo sei ragazzi su dieci sono vittime di bullismo e cyberbullismo. Un team di psicologhe e psicoterapeute AYAD, la dottoressa Daniela Moro, Valentina Nanni e Mareli Serocchi, hanno realizzato dei video su tutti gli aspetti psicologici. Uno per tutti gli insegnanti e gli altri differenziati in base alle fasce di età degli alunni, coinvolti anche dei tiktoker. L'avvocato Ilaria Salveme, responsabile legale dell'AYAD, ha realizzato tre video in materia giuridica. I video sono parte appunto del progetto di insegno e sono destinati a tutti gli insegnanti e le insegnanti per aiutarli a riconoscere anche nelle fasi più embrionali e a prevenire, ovvero a gestire, eventuali fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, nell'auspicio appunto che la scuola possa continuare in presenza per tutto l'anno scolastico. Sono abbastanza diffusi sia nella modalità del bullismo che del cyberbullismo. Diciamo questo è possibile insomma evincerlo anche dal fatto che quasi diciamo sei ragazzi su dieci sono vittima di cyberbullismo e questo fenomeno si è acuito purtroppo durante l'emergenza pandemica. Nel video della Polizia di Stato invece la dottoressa Rosalba Angeloni e il dottor Andrea Pelliccione chiariscono il ruolo della Polizia di primaria importanza sia nella prevenzione che in quella repressiva, come ha spiegato anche il questore, il dottor Enrico De Simone, che ha ricordato che l'impegno della Polizia proseguirà sempre nelle scuole. Il videocorso è impreziosito dalle grafiche e da altri elementi grazie a Laura Ruggeri e Sabina Mastropietro. Grazie all'ufficio scolastico regionale già iniziata la diffusione di dirigenti scolastici della provincia per la formazione dei docenti.